Va in onda questa sera, martedì 30 luglio 2024, dalle 21 e 20 su Rai 3, la seconda puntata di Filorosso Revolution, programma d'approfondimento condotto da Federico Ruffo, che accompagna i telespettatori fino al 3 settembre. Argomenti attuali e complessi, con approfondimenti e interviste esclusive, questa sera si parla di siccità, turismo e del caso di Capoteulada. Filorosso Revolution, le anticipazioni del 30 luglio 2024. Federico Ruffo conduce la seconda puntata di Filorosso Revolution, tra nuove inchieste, reportage e approfondimenti. Tema centrale di questo appuntamento è l'emergenza siccità, che sta mettendo in ginocchio anche il nostro paese. Particolarmente colpita è la regione Sicilia. A Palermo la pressione dell'acqua sarà ridotta ulteriormente per risparmiare risorse, mentre a Trapani iniziano le turnazioni per l'erogazione dell'acqua. Allicata, nel frattempo, la nave Cisterna, Ticino, della Marina Militare Italiana allevia temporaneamente la crisi. Particolarmente segnata è anche la situazione in Calabria dove il governatore Roberto Occhiuto ha dichiarato lo stato di emergenza regionale per le province di Crotone e Reggio Calabria a causa della grave carenza idrica. In Sardegna e in altre regioni del centro-sud si adottano intanto misure preventive. L'appuntamento di questa sera dedica ampio spazio al tema del turismo. I dati dicono che 32% degli italiani ha scelto di trascorrere le ferie nella propria regione, la percentuale più alta degli ultimi dieci anni. Quest'estate 38 milioni di italiani faranno almeno un giorno di vacanza, con una spesa media di 746 euro a persona, il cibo rappresenta un terzo del budget delle vacanze in Italia. Bisogna però evidenziare che il 16% degli italiani non andrà in vacanza, per motivi economici o personali. Ruffo e il team di Filorosso Revolution tornano sull'inchiesta su Capoteulada. Le indagini, iniziate otto anni fa, riguardavano l'applicazione di un decreto del Ministero della Difesa del 2009 per il recupero e smaltimento di materiali usati nelle esercitazioni militari. Punto la seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari ha assolto i generali accusati di disastro ambientale colposo nella penisola delta del poligono militare di Capoteulada, dichiarando che il fatto non sussiste. La difesa ha sostenuto che le disposizioni non fossero in vigore al momento dei fatti contestati. Dove vedere Filorosso in TV e in streaming? 30 luglio. La seconda puntata stagionale di Filorosso Revolution va in onda oggi, martedì 30 luglio 2023, dalle 21.20 su Rai3, ed è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.